Mister Meledina, finisce 1-1 contro la Pro Ponte Decima. Partita un pochino dai due volti, primo tempo un po' di confusione, nel secondo abbiamo visto davvero un ottimo via dell'acciaio che alla fine ha rischietto anche di andare a vincere. Sì, purtroppo il primo tempo siamo partiti un po' sotto tono. Loro hanno trovato questo gol in maniera un po' fortuita. Abbiamo finito il primo tempo, ci siamo guardati tutti negli occhi, abbiamo parlato un po', sono entrati con un altro piglio i ragazzi. Finalmente ho visto una squadra che voglio io aggressiva, che combatte il qualsiasi pallone. Penso che non abbiamo rubato niente, abbiamo preso una traversa, abbiamo fatto un gran gol e in più abbiamo avuto più occasioni per vincerla e purtroppo io penso che l'ultima punizione anche era dentro, perché io dalla panchina l'ho vista benissimo, perciò ci hanno urlato anche un altro gol. Quello che volevo dire è per quanto riguarda gli arbitri, vogliamo un po' più di rispetto, perché sembrava che eravamo noi fuori casa, ci ha fischietto tutto contro. Già ha dato un bel tempo e vorrei un po' più di rispetto per questo gol all'acciaio. Tutto lì. Grazie. 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 Grazie.